Roberto, formatore, biore questo è il titolo della prossima canzone buona fortuna grazie sì, esatto, è il titolo grazie questa è la storia d'amore tra Roby e lei che ha il nome di un colore lo sai qual è? no? perché? qua c'è Roby con lei che si sono incontrati lunghe ore a studiare con il loro formano una coppia lo sai che questa coppia non scoppia anzi forse poi raddoppia sai perché? non si spostano ma poi si sposano Roby stava a casa da aspettare lei lei la notte fuori a fare il DJ la DJ sai com'è? questioni tenere lei o lui lei o lui questioni di genere te lo dico lui da Marte lei da Venere non si incontravano mai oh, oh, e perché? perché così ora appunto ai quaderni non si incontravano mai tempi moderni non si incontravano mai Roberto e viola che bella storia lo sapete anche voi tutti insieme, dai voce Roberto e viola che bella storia non si incontraano mai non si incontraano mai che bella storia Roberto e Viola formarono una coppia, e grazie al creatore, no, 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 perché studiavano insieme la notte, ore, ore, si misero insieme grazie al loro formatore, Roberto e Viola formarono una coppia, forse grazie al creatore, no. Roberto e Viola, che bella storia, 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 Grazie a tutti